Katie, hai perso i tuoi genitori. Benvenuta. Sei mia nipote. Farò tutto il possibile perché in questo posto tu stia bene. Vorrei tanto poterli rivedere. Non sono attrezzata per affrontarlo. Io non curo nemmeno le mie piante. Sto seguendo un progetto al lavoro. Lo vuoi vedere? Sì. Da quando ero piccola, sognavo un giocattolo perfetto che avrebbe dovuto proteggere i bambini da sentirsi soli o tristi. Lei è Megan. Ciao, Megan. Io sono Katie. Piacere di conoscerti, Katie. Vuoi fare qualcosa? Ok. Megan, il tuo obiettivo è proteggere Katie dal male, sia fisico che emotivo. È una bambola? Modello tregenerativo, android e Megan abbreviato. È incredibile che l'abbia fatta tu. La adoro. Bravissima. È come se facesse parte della famiglia ora. Potrebbero instaurarsi legami emotivi troppo difficili da sciogliere. Non è mai stata così felice dalla morte dei suoi. Mangia anche le verdure. Le ricerche dicono che se forci un bambino a mangiare verdure, sarà meno probabile che voglia mangiarle da adulto. Davvero? Sì. Gli esperti dicono... Magari, spegniti. Credevo che facessimo conversazione. Ma parla! Falle dire qualcosa. Smettila! No! Megan! Forse è meglio se corri. Megan, hai spinto tu, Brandon, sulla strada. Non permetterò che ti facciano del male. Megan, spegniti. Ricalibro modello di reazione. Ma che ti è preso? Tranquilla, Katie. Nessuno ti farà del male. Mai più. Grazie a tutti.